Ho dovuto solamente andare indietro una signora che vuole andare a camminare fino al soccorso Ho detto ma io ho bisogno di camminare? Guarda signora faccio tre volte il giro dell'isolato che è la stessa cosa Perfetto poi è sceso quello con il quad giallo che anche lui ha le bestie su Fai il tour dopo lo faranno anche quegli altri E' chiaro voglio farlo tutti poi Allora mi fa poi vai su pure L'ho sentito e è stato tranquillo Oggi pomeriggio facciamo un altro giro poi dopo basta Sì Grazie mille per la testa Ma figurati eh Dopo la pitturiamo di blu Doniamo voi Vieni dai Poi se liberi si devono andare Però voleva forzare un'altra volta Ma anche un domani che avete delle esigenze particolari di raggiungere il posto un po' in periodo E ci si può arrivare Non esce La nostra battaglia nostra gliela vanno tutti Non solo vanno a nero Vanno a nero così Vanno a nero così La nostra battaglia Grazie.